Ciao a tutti lettori e lettrici e benvenuti in un nuovo Bookspot. Oggi ho il piacere di presentarvi La Madonna Negata di Giorgio Gagliardi, casa editrice You Can Print, collana saggistica, pagine 322, prezzo 17,50 euro, anno di pubblicazione 2022. Un accurato racconto sul culto mariano di Garabandal, villaggio spagnolo delle Asturie tra il 1961 e il 1965. Quella di San Sebastian de Garabandal è tra le apparizioni mariane poco conosciute, essendo stata debitamente sconfessata e inserita nelle false apparizioni dai nove vescovi di Santander che si sono susseguiti nel tempo. Ma sia gli esponenti del clero che i svariati medici hanno dimostrato lo stato di estasi, secondo le metodiche disponibili all'epoca. Grande assente in fase di analisi e di verifica la prima commissione diocesana, incaricata di verificare i fatti durante gli eventi in questione. Questo testo è nato dunque con l'intento di voler ringraziare tutti coloro che a dispetto della diffidenza e dell'ignoranza hanno voluto rendersi partecipi di questi fatti straordinari. Giorgio Gagliardi si laurea in medicina e chirurgia nel 1959, specializzandosi in cardiologia, ostetricia e ginecologia presso l'Università degli Studi di Torino. Ha svolto inoltre l'attività di medico di famiglia e nel 1987 si è specializzato in ipnosi medica e psicoterapia ipnotica. È stato vice direttore del Centro Studi e Ricerche di Milano sulla psicofisiologica degli stati di coscienza e direttore della sezione psicofisiologica del Laboratorio di Bologna fino a 2013. È autore e coautore di circa 90 pubblicazioni sulla psicofisiologia degli stati alterati di coscienza e su tematiche transculturali. Il suo interesse l'ha portato a visitare e studiare una cinquantina di presunti siti apparizionali, collaborando in alcuni casi con il Vaticano. Grazie dell'ascolto lettori e lettrici, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi contenuti.